Il mare come luogo di dialogo e crescita culturale non soltanto tra i popoli che vi si affacciano ma anche come esempio di convivenza planetaria e l'approccio del festival dalle sponde del Mediterraneo presentato a Palazzo di Città nel capoluogo e promosso dall'Associazione Porta d'Oriente. Un lungo viaggio che inizia dal porto di Bari e tiene insieme autori e lettori di tutti i territori bagnati dalle acque in questione o a dirla con le parole degli organizzatori, un festival letterario come passaporto universale per una cultura senza frontiere. È un modo per condividere la letteratura attraverso i popoli di queste regioni. Il Mediterraneo è cultura perché è il mare nostrum che unisce i popoli, che riprende le tradizioni, le culture del passato che ci hanno dato vita, ci hanno dato speranza e attraverso queste iniziative i letterati, gli scrittori avranno modo di condividere con altri scrittori non della propria terra le proprie esperienze, i propri scritti. Noi crediamo fortemente in un momento in cui sembra tutto destabilizzato che la cultura può fare molto e il pane per gli uomini, chi si nutre di cultura sicuramente avrà più forza nella vita.